Federica, io non ho mai un sostizio. A un nuovo momento, l'intera sul posto di Vigo, Soledin, Luzonca! Federica, non mi è sembrato di vedere questa gran differenza tra voi e Novala stasera. Penso sia stata una bella partita, insomma, loro hanno dei giocatori di grande livello e magari abbiamo, peccato di inesperienza, perché quando siamo punto a punto abbiamo sbagliato un po' qualcosa o dobbiamo giocare più d'astuzia. Però è stato un bel match, nonostante comunque a noi mancasse Braialin e ora ce li rincontriamo in Coppa e abbiamo subito la possibilità di rifarci. Ecco, adesso recupererete, spero al più presto, qualche pezzo del mosaico. Io credo che andando avanti potreste solo migliorare perché stasera non avete giocato mai. Lo spero anch'io.